Trasparenza e rispetto delle norme vigenti è quanto ha chiesto il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Giovanni Perrino sulle assunzioni e sul reclutamento del personale del Comitato Matera 2019. L'esponente pentastellato in un'interrogazione al Presidente della Regione Marcello Pittella ha chiesto di conoscere se per ciascuna unità di personale impiegato dal Comitato Matera 2019 siano state rispettate le vigenti regole previste per la pubblica amministrazione per le assunzioni e il reclutamento del personale per il conferimento degli incarichi nonché i vincoli pubblicistici relativi ai limiti di spesa. Perrino ha chiesto anche massima trasparenza sul tipo di mansioni o incarichi affidati, sulle procedure di selezione e assunzione, sulle tipologie durata e corrispettivi dei contratti e chiarezza su eventuali indennità o rimborsi spese ai dieci componenti del Consiglio di Amministrazione del Comitato.